Scegliete l'indirizzo tecnico dei servizi sociosanitari. Per far parte di questa grande famiglia non basta che avere accettazione dell'altro, comprensione, empatia, lealtà e sincerità, maturità e soprattutto rispetto. Questo diploma vi permetterà l'inserimento in strutture dove si aiutano i soggetti socialmente o economicamente svantaggiati, come ad esempio bambini, anziani, diversamente abili e donne di sicurezza. Grazie.